Ciao, sono Caterina Di Flamminio, laureata in disegno industriale e ambientale e oggi vi parlerò di Neri Oxman, un architetto israeliana che nasce nel 1976. Spende alcuni anni della sua vita nell'aviazione militare israeliana per poi dedicarsi agli studi in medicina, ma deciderà poi che la sua strada è un'altra, quella appunto dell'architettura e del design. Molto importante per lei è l'unione della progettazione con lo studio della natura, infatti molti dei suoi progetti prendono ispirazione dalla natura e dalle strutture che si articolano in tutto ciò che la natura ci offre. Molto importante nella sua vita appunto l'esperimentazione e la collaborazione che lei porta avanti col Meet Media Lab. Possiamo vedere appunto questa sua progettazione orientata alla collaborazione, allo studio della natura all'interno di uno dei suoi progetti del 2013 che è Silk Pavilion, che nasce da una struttura montata da dei macchinari robotici al cui interno poi sono stati messi 6500 bachi da seta e la struttura viene appunto ricoperta da questi bachi che tessono le proprie fila. La domanda che si pone lei in questo progetto è come gli esseri umani possono collaborare insieme alla natura e le specie esistenti che la popolano. Per avere appunto questo risultato che viene poi realizzato dai bachi da seta, nella realtà viene appunto ottenuto facendo bollire i bachi per poi estrarne i filamenti, invece lei dà libero spazio al lavoro che viene fatto appunto da questi bachi e pensiamo che questo lavoro è stato realizzato in sole tre settimane e un solo filamento è lungo addirittura un chilometro. Neri Oxman quindi sfrutta quella che è la capacità intrinseca della natura e i meccanismi già esistenti da applicare alla progettazione. Una cosa molto interessante che lei ripropone in alcune delle sue interviste è quello che è appunto il suo obiettivo futuro di creare una colonia di api che insieme a delle macchinari robotici possano contribuire alla popolazione del pianeta Marte. Un'altra chicca diciamo che lei ha detto appunto all'interno di una sua intervista è quella che un domani sogna la coltivazione di iPhone. Neri Oxman quindi possiamo vedere che è una donna che sogna in grande e che si fa forza della sua volontà e della sua curiosità nello sperimentare per contribuire a uno sviluppo del mondo in una direzione soprattutto ecosostenibile. Grazie.